buonasera ne ho dimenticato un pezzo aspettate vabbè ma voi siete abituati che io faccio così tanto all'inizio non c'è mai nessuno perché deve arrivarvi la notifica dovete venire o la vedere se siete come orari aspettate ci facciamo gli apparacci nostri eccoci sì ho fatto le boccine come faccia mia figlia siete adulti buongiorno ben arrivati allora come vi ho scritto nel come si chiama del posto ho già fatto una roba ciao robin c'è anche la robin da roma con furore si seguono anche la smettiamo di fare casino se abbiamo i gattini che fanno casino siamo a te scusate mi sono spettinato allora come vi dicevo la semplicità paga perché oggi ho fatto una roba super semplice ma super utile veloce rapida quando proprio non ci avete modo tempo cioè sempre cosa abbiamo fatto io l'ho fatta una sola perché non sono troppo in forma infatti come avete visto ieri non c'ero e quindi siamo tranquilli no una fetta vasa tipo vasa quindi una fetta di segale integrale con una spalmata che è un cucchiaino di crema di arnacardi vi piace arnacardi perché non è arachidi aracana con sopra una spolverata di cioccolato proprio grattugiato con la grattugia quella del parmigiano quella la semplicità buono allora voglio cogliere l'occasione di questa merenda che poi anche una colazione per parlarvi di quelli che fanno sempre la stessa colazione o sempre la stessa merenda e vabbè ma io non ho trovata una che mi è comoda perché mi devi rompere le scatole c'è tutto no questa c'ha le fibre sì c'è i carboidrati sì corretti grassi del cioccolato e della crema di arnacardi eppure un pochino di proteine giusto giusto e allora perché non va bene guardate perché non va bene fare sempre la stessa rispondetemi nei commenti oppure chi guarda la diretta indifferita può rispondere comunque nei commenti non è cambiato niente io aspetto le risposte intanto mangio sapete che è proprio buono 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 prima passato con lo scemo del mio fidanzato mi ha detto ma cosa c'hai le formiche sulla vaga quando uno è simpatico e di là mi sta dicendo proteine vedi anche a dirmi che le formiche sono le proteine del futuro vabbè ho capito ho capito l'ho ripetuto ciao simona quindi perché si fosse appena connesso la domanda è perché se io ho trovato una merenda o una colazione che mi va bene mi soddisfa e contiene tutti i nutrienti che tu dici non posso sempre mangiare la stessa cosa la risposta è questa perché per quanto una colazione una merenda una ricetta sia completa dal punto di vista dei nutrienti no ecco abbia detto che ci sono tutti sia adeguata nel senso che se abbiamo i carboidrati corretti i grassi di buona qualità abbiamo anche un po di proteine perché allora non possiamo farlo sempre la risposta è molto semplice perché per quanto sia una merenda adatta perfetta giusta obiettivamente manca di alcune ciao claudia manca di alcune cose no per esempio in questo caso ci sono sì le fibre ma sono fibre un certo tipo potremmo dire che non ci sono le fibre della frutta non ci sono i minerali le vitamine della frutta poi cos'altro sì qualche proteina c'è ma mica poi così tante il succo qual è allora aspetta se io faccio la stessa cosa con una merenda con la frutta allora va bene no perché non esiste un alimento che sia completo non esiste un alimento che abbia in sé tutti tutti i nutrienti che a me servono quindi fare sempre le stesse ricette sempre la stessa merenda sempre la stessa colazione cosa fa se è corretto ok magari io non prendo peso però non mi garantisco tutti i nutrienti di cui ho bisogno anche se mangio sempre la frutta non va bene perché se mangio sempre la stessa frutta non ha sempre le c'è non ha le vitamine che potrebbero avere se io variassi tutti i tipi di frutta non so se mi sono spiegata e voi cosa ne pensate siete di quelli che fanno sempre la stessa cosa oppure no allora se siete ricciardini dovreste aver capito damo che non si fa sempre la stessa cosa giusto ciao uccia ciao valentino alla fine se ci pensate piuttosto importante come concetto perciò se vi è piaciuto questo video vi chiederei di condividerlo con chi non è un ricciardino per aiutarlo a fare le scelte corrette perché ditemi se non è ditemi se non è vero quanti che non sono ricciardini mangiano sempre la stessa colazione magari anche sempre le fette biscottate con la marmellata il cappuccino parliamo ma perché deve parlare già detto cappuccino e brioche quindi e poi figuratevi se già mangiare una colazione una merenda come questa che è corretta anche se non va fatto tutti i giorni non va bene pensate tutti i giorni una colazione che è pure scorretta come magari la cappuccino e la brioche o le fette biscottate con la marmellata perché non è corretta se non sapete come mai che la fetta biscottata con la marmellata non è una colazione corretta vi invito a guardare il video sull'insulina che vi pubblicherò nei commenti se non sapete di cosa parlo guardate nei commenti e anzi ve lo metterò direttamente come link nella nella descrizione del video e quindi condividete il video se avete qualche amica che ancora pensa che la colazione con la fetta biscottata la marmellata sia non plus ultra della dieteticità e se invece avete delle domande io sono qua ciao marinella ciao vania quindi ovunque brorito io direi che anche per oggi ci siamo detti a sufficienza cose inviterei chi sta guarda chi non allora chi sta guardando adesso ma non è in diretta a farmi le domande che vuole nei commenti e adesso modifico il posto vi inserisco anche il link a quel video che vi dicevo e per il resto ci vediamo domani ok buona serata a tutti ciao ciao